So che abbiamo un'opportunità unica perché i documentari come modello di storytelling sono qualcosa su cui Netflix ha puntato proprio dall'inizio. Quindi abbiamo supportato i documentari per tutto questo tempo e ora che abbiamo lanciato il Netflix Original Documentary Program, penso ci sia sempre più interesse nel capire come i documentari e il giornalismo possono supportarsi a vicenda. Siamo sempre alla ricerca di partners che siano grandi storytellers e i giornalisti per natura sono fenomenali in questo. Alcuni film sono molto diversi tra loro, alcuni sono trainati da una storia, altri sono più investigativi, giornalistici, con alcuni spunti di storytelling. C'è tutto questo insieme di elementi e noi ora cerchiamo di lavorare con i narratori più innovativi, che sperimentano forme innovative nel modo di fare film. Quello che chiedo è cos'è una storia che proprio ti tiene sveglio di notte e che vuoi raccontare. Qual è il modo più pratico di comunicare questa cosa? Abbiamo avuto molta fortuna perché dopo che abbiamo lanciato nel 2013 la Netflix Original Initiative abbiamo avuto sette nominations in quattro anni e il primo Oscar con White Helmets, che è una cosa entusiasmante per noi. Penso che il vero focus sia il mondo che è davvero importante per i nostri spettatori. Per noi è importante che filmmakers e case di produzione capiscano che fare partnership con Netflix vuol dire che supportiamo i loro progetti il più possibile. Siamo estremamente rispettosi dei dati dei nostri utenti. Usiamo semplicemente le abitudini delle persone dentro all'ambiente di Netflix per provvedere a fornire le migliori raccomandazioni in un dato momento. La cosa che amo di più è che c'è un mix di arte e tecnologia nell'azienda e la componente tecnologica che riguarda l'algoritmo è per me entusiasmante perché significa che abbiamo democratizzato l'esperienza degli utenti nell'accesso ai contenuti. Siamo competitivi perché lavoriamo su larga scala e questo offre un grande sostentamento economico e penso che per quanto riguarda lo storytelling il fatto sia, come credo capiate in quanto giornalisti, che vuoi essere pagato in modo adeguato e allora il fatto che noi pubblichiamo la tua storia in modo globale, simultaneo in tutto il mondo, può davvero avere un grande impatto e creare un momento culturale. Grazie a tutti.